Domani giovedì 15 settembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Sanremo, come sempre per le 19.30. All'ordine del giorno, dopo le interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno, l'approvazione verbali della seduta precedente. Il parlamentino locale affronterà la discussione di una variante normativa al piano regolatore ed un trasferimento in proprietà a titolo non oneroso di immobili del demagno statale. Sempre domani l'assise affronterà la mozione del Movimento 5 Stelle Sanremo, protocollata il 24 luglio 2015 dal titolo Diritto al cibo, niente sprechi, ovvero un progetto atto a realizzare un concreto incontro tra domanda ed offerta di beni di prima necessità, cibo anche fresco. Molti negozi locali, ristoranti, supermercati, sovente a fine giornata sono costretti a gettare cibi sia a lunga durata che freschi perché invendibili, seppur perfettamente edibili e che finiranno in discarica. Il Movimento 5 Stelle chiede di creare una rete a costo zero per il recupero degli alimenti, vagliando la disponibilità della Mensa Primo Fiore, della Caritas e delle associazioni Onlus ad iniziare una raccolta di cibi donati su base volontaria presso i negozi e i locali della città che eventualmente aderiranno al progetto. Alcune associazioni lo stanno già facendo, ma certo costituire una rete capillare ed incentivarla da parte del Comune sarebbe importante. Nella mozione si chiede di attivare l'iniziativa di raccolta generi alimentari e presidi sanitari e promuoverla presso i negozi locali della città. Si chiede inoltre di concertare assieme ai servizi sociali l'informazione del nuovo servizio qualora venisse approvato presso i soggetti che attualmente risultano più adatti a fruire del servizio di modo che possano usufruirne in modo prioritario. La solidarietà sociale è un bene primario da incentivare, dicono, è un servizio di donazione, raccolta e distribuzione di generi alimentari, rappresenterebbe per il Comune uno sgravio di costi in relazione all'assistenza sociale.